La 27esima giornata del campionato di serie di Girone F si apre per le Molisane con l'unica partita in programma che vede il Campobasso affrontare la Vastese. Cudini schiera ancora una volta in campo il Tridente che ha fatto la sua fortuna nelle ultime giornate, quel cogliati esposito vitali che si è dimostrato in grado di costruire molto in fase offensiva. A centrocampo l'onipresente bontà si accasa insieme ai compagni di Ventura Candellori e Dalmazzi. Fabriani, Vanzan, Latu e Menna completano il reparto arretrato con Raccichini chiamato all'estrema difesa. Dall'altro lato del campo, Mister Dadderio opta per una formazione a specchio nel tentativo di ingessare la fase costruttiva e di sfruttare ogni quizo possibile nel tentativo di sovrastare l'avversario. Il primo lampo della partita è però in favore degli uomini di Cudini che avanzano minacciosi fino alla soglia dell'area di rigore per poi appoggiare su Esposito che l'esto tenta il tiro al giro. Il suo tentativo finisce di poco alto. Dopo il primo quizo cala il freddo in campo con le squadre che si affrontano sul piano tattico senza che nessuno dei giocatori riesca realmente ad incidere in attacco, con la fase di non possesso che diventa via via predominante. Quando siamo ormai giunti al 42esimo sono ancora una volta i molisani a provare a sbloccare, è una partita complicatissima. Lo fanno con il solito Esposito che in progressione prova a crossare il pallone in aria. L'estremo difensore dell'avastese Bocca Nera però salta più in alto di tutti, smanaccia e disinnesca il tentativo dei padroni di casa. Sul fotofinish del primo tempo, ultima azione dei Lupi. Vitali apre per Fabriani che crossa al centro. La difesa dell'avastese in mischia allontana il pallone favoredo Bontà che prova il tiro a lotta sicura. Il pallone finisce tra i piedi di Candellori e il direttore di gara chiama un fuorigioco dubbio. Le squadre tornano in campo con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle un primo tempo fondato sullo stallo, mentre la pioggia comincia a scendere copiosa sul terreno di gioco, rendendo le cose ancora più complicate. Il primo tentativo è di scardinare la partita dallo 0 a 0 e appannaggio dei Lupi. Cogliati sulla fascia si lancia in avanti, superata l'area di rigore e innesca l'inserimento. Non trovandosi in linea con lo specchio della porta prova a lanciare Esposito con un appoggio. Il numero 10 carica il piattone ma è centrale e Boccanera respinge distinto. Al ventitresimo ancora a campo basso complice un calcio di punizione interessante. L'estremo difensore dell'avastese chiama la barriera e il tiro viene affidato ai piedi buoni di Esposito che prova a piazzare direttamente in rete. Il tiro è preciso ma troppo centrale, Boccanera blocca in un tempo. A questo punto mister Cudini prova a ridisegnare le geometrie tattiche del campo basso. Fuori lato dentro Rossetti nel tentativo di garantire una maggiore fase offensiva anche a rischio di perdere qualche pallone in più al centro del campo. Al trentaduesimo il dialogo tra Candellori ed Esposito porta il numero 8 ad innescare in aria un cross. Rossetti tuttavia non riesce ad agguantare il pallone in tempo. Al quarantacinquesimo ci prova anche Vanzana da posizione interessante. Purtroppo per lui però il tiro manca sia di precisione che di potenza e il pallone si spegne al lato del palo. Nei minuti di recupero la vastese si chiude a riccio e impedisce qualsiasi ulteriore inserimento dei rosso-blu che sono costretti ad arroccarsi a loro volta sullo 0-0. Finisce qui con il campo basso che sciupa l'occasione dell'allungo sul notaresco.